Ehi là, Shulk. Come stai? Dixon! Quando sei tornato alla Colonia 9? Adesso. Vedo che ti sei dato da fare. Sembra che le tue ricerche sulla monade abbiano dato i loro frutti. Ha fatto bene ad affidarti il laboratorio. Ha! I tuoi appunti mi sono stati molto utili. Quindi sei in grado di attivarla ora? Beh, chiunque può attivarla. Il problema è controllarla. Già, per tutti tranne lui. Esatto. Se chiunque oltre a Damban fosse capace di controllare la monade, potremmo battere qualsiasi forza militare del mondo. Non lo pensi davvero? A cosa sarebbero queste funzioni nascoste di cui parli qui? È solo una congettura per ora, ma penso che la monade possa essere qualcosa di molto più importante di una semplice arma per sconfiggere i Mekan. Capisco. E come puoi sostenere la tua teoria? Il simbolo che appare al centro quando l'arma si attiva. Quello che so è che il disco centrale è composto di vetro multistrato. Il simbolo appare sullo strato superiore e ogni strato è costruito in modo diverso. Quindi ulteriori simboli potrebbero apparire sugli altri strati? Il che vuol dire... Che l'arma potrebbe celare un potere ancora più grande. Dico bene? Se solo potessimo sbloccare il potere della monade. Damban! Damban! Date la precedenza ai feriti più gravi! Forza! Datevi una mossa! Damban! Non guardarmi in quel modo. Non sono ancora morto. Shulk. Damban! Damban! Grazie a tutti.